Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video True Crime. Il caso di oggi mi ha messo veramente una grande tristezza al pensiero di quello che le persone in predallodio possono arrivare a fare. Michael Moss nasce il 22 dicembre del 1984 a Liverpool in Inghilterra. La sua infanzia è normale e viene descritto come il tipico bambino che ama il calcio, le moto, le macchine da corsa e uscire con i suoi amici. Seppur non particolarmente dotato dal punto di vista accademico, era portato per tutto ciò che era meccanico. Fin da piccolo era infatti in grado di smontare e rimontare una bicicletta in pochissimo tempo. Michael ha un rapporto molto stretto col padre che considera il suo eroe. Purtroppo quando il ragazzo ha 11 anni l'uomo perde la vita a causa di un'emoragia celebrale. Il ragazzo è devastato e sente il mondo caderli totalmente addosso, comincia a cambiare, è sempre agitato e si mette nei guai sia a casa che a scuola. La situazione precipita al punto che viene espulso da scuola e inizia a frequentarne una speciale per ragazzi problematici, il Pinefield Center. Secondo la madre, Michael era inizialmente felice della sua nuova scuola, ma a un certo punto inizia a scappare e a saltare le lezioni. È un momento molto difficile per la madre. Gran parte delle volte non sa dove si trova il figlio più grande e stare dietro a tutto è difficile, visto che ha anche altri figli a cui badare. Michael viene accolto in una casa famiglia, dove possono insegnarli a gestire il dolore della perdita del padre e tenerlo d'occhio. Sembra che tutto proceda per il meglio e il ragazzo comincia a farsi degli amici, ma nel 1999 le cose cambiarono. Alan Bentley e Mark McEfree hanno entrambi 15 anni e sono noti bulli. Sono stati espulsi da scuola dopo aver picchiato uno studente, ma il fatto non è mai stato riportato alla polizia. Michael conosce questi ragazzi e fa di tutto per starli lontano, ma le loro strade si incontrano quando Michael comincia a uscire con l'ex ragazza di Alan. Il bullo non prende la cosa alla leggera e comincia a pensare a una vendetta, arrivando a mandare a Michael minacce di morte. In questo periodo un terzo ragazzo, Graham Nearly, arriva a Pinfeld e fa amicizia con i due bulli. Graham non è un personaggio violento come Alan e Mark. È stato cacciato dalla sua vecchia scuola per aver rubato. Il 12 novembre del 1999, il giorno del suo compleanno, Alan invita gli amici a casa per festeggiare. I tre cominciano a bere vodka e a vedere il film di Quintarantino, Le Iene. All'una di notte circa, Graham si addormenta per il troppo alcol, mentre gli altri due parlano della mancanza di rispetto di Michael. Sanno che il ragazzo adora le moto, quindi pianificano di attirarlo in una zona isolata dicendogli che hanno una motocicletta che vogliono mostrargli. Quando Michael riceverà chiamata, dopo poco accetta ingenuamente di incontrarsi coi ragazzi al parco. Al suo arrivo, Alan spunta dal nulla e lo butta a terra con violenza. Alan e Mark iniziano a picchiare e a prendere a calci la testa selvaggiamente del povero Mark, rompendogli anche una bottiglia di vodka sul cranio. Successivamente lo spogliano e usano i vetri rotti per ferirlo e tagliarlo. E non si fermano neanche quando il ragazzo perde i sensi, anzi svegliano Graham e insieme continuano a inferire su Michael. Stando al racconto della polizia, i tre colpiranno la testa del ragazzo come se fosse stato un pallone da calcio numerose volte e giocare a un'attrice usando il corpo del ragazzo, tracciando cerchi e croci sulla schiena a graffi. La tortura andò avanti per ben due ore fino a quando Michael non morì col collo spezzato. A questo punto Alan decide di reinterpretare la sua scena preferita delle Iene, tagliando le orecchie di Michael con una bottiglia rotta, cantando Stuck in the middle with you. Per questo motivo questo assassino viene poi soprannominato l'omicidio delle Iene. Intorno alle 3 di mattina del 13 novembre la polizia riceve una chiamata anonima riguardo a un giovane ferito al parco. Un'ambulanza viene mandata immediatamente sul posto, ma non viene trovato nessuno. Si pensa quindi a uno scherzo e l'ambulanza se ne va. La stessa mattina alle 7.30 un uomo che stava portando a spasso il cane notò qualcosa di strano nell'erba. Si avvicinò per controllare e constatò con orrore che si trattava del corpo nudo di un giovane ragazzo coperto di cicatrici. Si rese conto che era ormai morto, così chiamò la polizia. In contemporanea lo staff della casa famiglia sta cercando disperatamente Michael ovunque e non trovandolo da nessuna parte chiama le autorità per denunciarne la scomparsa. Anche se il corpo ritrovato al parco era orribilmente sfigurato, il personale della casa riuscì comunque a identificarlo. Si trattava proprio di Michael. Il ragazzo aveva sul corpo più di 100 ferite, tra cui 10 fratture alle costole e fratture multiple alle ossa del viso. La madre di Michael rimase sconvolta e incredula quando le dissero cosa era successo e che cosa era stato fatto al figlio. Immaginatevi la tristezza di questa madre. Quando le indagini iniziarono, tutti gli indizi puntavano ai tre ragazzi e di lì a poco Graham, schiacciato dai sensi di colpa, si era costituito alla polizia dopo aver raccontato la verità a sua madre. Indicò Alan e Mark come i suoi complici. Raccontò che aveva incontrato i due poche settimane prima e che Alan gli aveva parlato dei problemi che aveva con Mike, che stava uscendo con la sua ex ragazza. Da parte sua, Graham non aveva alcun problema con Michael e aveva anche provato a fare amicizia con lui, ma il ragazzo non si era dimostrato interessato, visto che Alan e Mark non gli piacevano. Graham raccontò che la sera dell'omicidio si era addormentato per aver bevuto troppo e non aveva idea di che cosa avessero architettato gli altri due. Aveva scoperto cosa stava succedendo solo quando i ragazzi erano andati a svegliarlo e gli avevano detto che avevano qualcosa da mostrargli. Lui li aveva seguiti al parco dove aveva incontrato Michael semisvenuto sull'erba nudo. Mark si era infine fiondato su Michael e lo aveva minacciato di sparargli la faccia se non si fosse rialzato. Il ragazzo aveva provato a rimettersi in piedi, ma era caduto nuovamente a terra e in quel momento aveva avuto inizio la vera tortura. Graham ammise di aver partecipato all'attacco, ma di averlo fatto per paura di quello che gli altri due ragazzi avrebbero potuto fargli se si fosse rifiutato. Fu inoltre accertato che un altro ragazzo fosse presente, ma che si allontanò dalla scena quando le cose cominciarono ad andare fuori controllo. Alan e Mark vennero arrestati e messi sotto interrogatorio. Come ci si può aspettare in un caso del genere, i due si tradirono la vicenda cercando di apparire innocenti. Mark cercò di far credere che Alan avesse agito da solo, mentre Alan disse che si erano mossi insieme. Quando la polizia perquisì le stanze dei ragazzi, trovarono inquietanti disegni di Alan che mostravano un giovane ragazzo in una pozza di sangue dopo essere stato attaccato con violenza. Questo li convince che Alan stava progettando l'attacco a Michael da un po' di tempo. La madre di Michael rimase sconvolta nell'apprendere che gli assassini di suo figlio erano ragazzi che andavano a scuola con lui. I tre ragazzi furono accusati di omicidio e giudicati dal tribunale minorile di Liverpool. Per difendersi i tre affermarono che Michael aveva chiesto loro di attaccarlo così da poter richiedere un risarcimento penale che avrebbero diviso tra loro e che Michael avrebbe usato per comprarsi una moto. La giuria non credette a una sola parola e condannarono all'unaminità Alan e Mark il 26 luglio del 2000. Anche Graham fu ritenuto colpevole dalla maggioranza dei giurati. Sembra che Alan e Mark non mostrarono alcun rimorso quando vennero incarcerati mentre Graham scoppiò in lacrime. Alan e Mark furono condannati all'ergastro con possibilità di libertà per buona condotta dopo 10 anni. Lo stesso per Graham ma con la possibilità di rilascio per buona condotta dopo 9 anni. La madre di Michael fece di tutto perché i tre ragazzi non fossero rilasciati dopo aver scontato il minimo della pena molto leggera vista il tipo di crimine. Purtroppo i suoi sforzi pallirono e i tre ragazzi uscirono per buona condotta allo scadere degli anni stabiliti dalla corte. Eccoci arrivati alla fine di questo video. Che cosa ne pensate? Grazie per avermi seguito e spero di vedervi al prossimo. Grazie per avermi seguito.